La seconda edizione del TG6 La seconda edizione del TG6 Pericolo di morte Questo è il drammatico bilancio dell'incidente mortale avvenuto oggi sulla strada statale 17 all'altezza del comune di Barisciano in provincia dell'Aquila Due le auto coinvolte secondo quanto appreso dalla polstrada che sta svolgendo i rilievi Una Hyundai sulla quale viaggiava una famiglia di rapino in provincia di Chieti E una Ford Focus Station Wagon con il solo conducente a bordo La Hyundai ha preso fuoco dopo l'impatto frontale andando quasi completamente distrutta Le due vittime sono Maria Concetta della Valle 51 anni e la figlia Santa Medaglia di 24 Il padre e marito è in ospedale così come il conducente dell'altra auto Nicolino Antolini 54 anni originario di Popoli Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco dell'Aquila e due autoambulanze del 118 I rilievi sono coordinati dall'ispettore della stradale Antonio Mara I corpi delle due persone decedute sono rimasti a lungo all'interno dell'abitacolo in attesa del recupero L'accaduto tra le altre cose ha provocato pesanti disagi al traffico Si è creata una lunga coda con le auto che riuscivano a invertire la direzione ma i mezzi pesanti rimasti bloccati Cambiamo pagina dopo le manifestazioni contro la realizzazione del Ponte del Cielo Oggi è arrivata la decisione della sovrintendenza che ha bocciato il progetto di Luciano D'Alfonso Ponte del Cielo bocciato dalla sovrintendenza Dopo le osservazioni mosse dal centrodestra del comune di Pescara Che tra le carte aveva addotto anche una lettera firmata a Tommaso Cascella Arriva la notizia La sovrintendenza ha definitivamente bocciato il Ponte del Cielo Ma era naturale che ciò avvenisse perché quell'opera era assolutamente fuori contesto Lo hanno detto tutti, lo ha detto persino Tommaso Cascella Il figlio del maestro Pietro Cascella Ha detto che quell'opera avrebbe sicuramente creato un vulnus nei confronti dell'opera d'arte del padre Il centrodestra ora prende la palla al balzo per chiedere di spendere i soldi destinati a quell'opera In opere più necessarie e utili per la città Adesso cerchiamo di ragionare su come utilizzare queste risorse Sicuramente si potrebbero utilizzare per eliminare quei detrattori ambientali Che sono i pennelli di massi perpendicolari alla spiaggia Che oggi creano dei problemi e che invece potrebbero diventare quelli sì Dei pontili fruibili in maniera leggera Ecco cerchiamo di ragionare per il bene della città E su questa vicenda e su questo no della soprintendenza Ci sono anche le parole del primo cittadino di Pescara Marco Alessandrini Prendo atto del parere negativo della soprintendenza Delle belle arti e paesaggio dell'Abruzzo E sui lavori di realizzazione del cosiddetto ponte del cielo Quale completamento prospettico di largo Mediterraneo Ma Pescara non può permettersi di perdere quelle risorse Stiamo verificando le iniziative da prendere circa il ponte del cielo Ma siamo pronti a chiedere alla regione di deviare le risorse sul teatro Michetti Qualora la fattibilità del ponte dovesse risultare impossibile Affinché la città mantenga i finanziamenti previsti Il presidente della regione Luciano D'Alfonso Questa mattina Teramo ha illustrato gli interventi sulle frane nei comuni montani Finanziati dal Ministero dell'Ambiente Lo stanziamento da parte della Giunta regionale Di fondi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici A carattere strategico Vediamo Sono dieci gli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente Con una contribuzione di 3 milioni di euro Sulle frane nei comuni montani del Teramano 10 milioni di euro I fondi per la messa in sicurezza degli edifici comunali A carattere strategico Stanziamento da parte della Giunta regionale Ad annunciarlo questa mattina a Teramo Presso la sala consigliare del Comune Il presidente della regione Luciano D'Alfonso Sono convinto che si è fatto un grande lavoro Prima di venire a Teramo siamo stati al Comune di Chieti Abbiamo anche ragionato con la provincia di Chieti Adesso verifichiamo qui al Comune di Teramo Lo stato di progressione dei finanziamenti Oltre a questo poi presenteremo Due elenchi di nuovi finanziamenti Riguardanti 20 comuni Sia per la messa in sicurezza di edifici comunali Come sedi anche di strutture COC per la protezione civile Sia 10 interventi per 10 comuni Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico Siamo praticamente in 15 mesi A circa 213 milioni di euro dati ai comuni La regione è ente di programmazione e di finanziamento Noi non appaltiamo, non siamo stazione appaltante Nel 99% dei casi Devo però dire che i comuni adesso devono procedere Con sollecitudine a realizzare Noi abbiamo fatto dei miracoli E continueremo a lavorare di anno in anno Per recuperare lunghe stagioni quinquennali Di disinteresse e di minimalismo Per la manutenzione del suolo Per quella che si chiama L'opera di riordino del suolo e del sottosuolo Anche di riordino del sistema delle acque Noi ci siamo molto concentrati su questo fronte E abbiamo messo in campo qualcosa come 213 milioni di euro E siamo ancora alla ricerca di risorse A 24 ore dal blitz di Fiamme Gialle Agenti della Polizia Stradale Negli uffici del Comune di Teramo Dove è stata acquisita tutta una serie di atti Relativi al nuovo bando per l'affidamento Del servizio di trasporto scolastico La Procura iscrive un primo nome Nel registro degli indagati Quello di un dipendente della ditta Frat Arcangeli Una delle sette ditte che hanno risposto Al bando pubblicato dal Comune Un atto dovuto a quest'ultimo Necessario in virtù di tutta una serie di atti Di indagini legati all'inchiesta Il dipendente infatti si sarebbe occupato Di seguire l'iter relativo Alla partecipazione dell'azienda al bando E ora ci spostiamo all'Aquila L'argomento centrale del colloquio tra il Procuratore della Repubblica Fausto Cardella e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ieri è stato proprio il rendere il sistema della ricostruzione E degli appalti più trasparenti in modo da arginare con norme più severe Le eventuali scorrettezze Procuratore, l'incontro con Mattarella Si è parlato anche di inchiesta della ricostruzione Magari di creare anche delle norme più severe in questo senso? Ma se ne è parlato ovviamente pubblicamente Questo è stato l'incontro Io l'ho chiesta Come ho rinnovato quella richiesta Poi non è neanche una richiesta È un desiderio Un'aspirazione Che ci sia una norma Che cristallizzi Quanto meno Questa posizione dell'amministratore Che noi abbiamo anticipato Alla quale noi siamo arrivati Per via di interpretazione giuridica Ma certamente se ci fosse una legge E questa legge disciplinasse ancora più severamente Più precisamente di quanto non sia già adesso Il sistema degli appalti, dei subappalti, delle ditte Certamente sarebbe un grosso argine Diciamo nei confronti dei rischi di legalità Sono venute alla luce tante inchieste Segno che comunque anche la procura sta facendo un ottimo lavoro Ma guardi Noi ci sforziamo di fare il nostro lavoro al meglio Le inchieste ce ne sono, ce ne sono state Ma le potete contare voi direttamente Perché sono tutte pubbliche Sono ormai tutte venute alla luce Tranne quelle che stiamo facendo ancora Non sono riusciti a incontrare il Presidente della Repubblica I forestali che hanno dato vita fuori al Tribunale Un sit-in di protesta Il Prefetto Alecci li ha rassicurati Porterà le loro istanze al Capo dello Stato La forestale dice no alla militarizzazione del corpo Non c'è stato l'atteso incontro con il Presidente Mattarella Per chiedere un intervento urgente Per bloccare l'ipotesi di scomparsa del loro corpo Ultracentenario Sono rimasti a bocca asciutta i forestali Che durante l'inaugurazione del Palazzo di Giustizia Hanno manifestato con un sit-in all'Aquila Per ribadire la contrarietà al progetto di inglobamento Con l'arma dei carabinieri I forestali nel colorato sit-in Hanno richiamato l'attenzione del Capo dello Stato Reggendo ciascuno una lettera che componeva lo slogan Civili per natura Richiamando proprio l'ipotesi Di militarizzazione del corpo Prevista dal decreto sulla pubblica amministrazione Del Ministro Marianna Madia All'uscita dal palazzaccio Il Presidente ha salutato i manifestanti Dall'interno dell'auto presidenziale Mentre il Prefetto Lecci ha però garantito Che si farà portavoce delle rivendicazioni con il Presidente Chiedendogli di intercedere con il Premier Matteo Renzi Affinché si convochi un incontro a Palazzo Chigi Ci aspettiamo quello che abbiamo già riferito La settimana scorsa al signor Prefetto dell'Aquila Incaricato direttamente dal segretariato del Quirinale Dove abbiamo sollevato quelle che sono le nostre preoccupazioni Rispetto appunto a questo progetto di riforma Noi vogliamo in qualche modo che venga Riorganizzato il Corpo Forse dello Stato Così come la legge Madia prevede Prima ancora che il Governo preveda Che noi possiamo essere eventualmente Assorbita da altra forza di polizia Quindi evitando lo spezzettamento Evitando che tutte le professionalità E tutto ciò che abbiamo acquisito nel tempo Anche rispetto alla funzione svolta fino ad oggi Possa essere in qualche modo Disciolta In maniera poco corretta Denunciata per stalking Ingiurie e lesioni personali Verso l'ex compagno più giovane di lei Di tre anni Questa volta a finire nei guai E' una donna teramana che ha vessato E in una occasione anche aggredito L'uomo con il quale aveva avuto una relazione Poi finita la scorsa estate I carabinieri della stazione di Sant'Egidio Alla Vibrata Hanno denunciato una cinquantenne del posto Ai carabinieri l'uomo ha raccontato Di aver ricevuto decine di messaggi Da indurlo a bloccare l'utenza telefonica Della chiamante La sua ex fiamma non avrebbe desistito E per aggirare il blocco utente Si sarebbe servita di diversi altri numeri di telefono Da cui inviare a pioggia gli sms E ora parliamo del colonnello Donnarumma Che lascia l'Aquila Quasi un anno nel capoluogo di regione Quale comandante provinciale dei carabinieri Tanti risultati conseguiti E una fattiva collaborazione con la procura Della Repubblica Aquilana Specie per le inchieste del post-sisma Il colonnello Giuseppe Donnarumma Comandante provinciale dei carabinieri Lascia l'Aquila per assumere un incarico Al comando operativo di Roma Quasi un anno nel capoluogo di regione Risultati operativi importanti conseguiti Anche grazie alla fattiva collaborazione Con la procura della Repubblica Come sottolineato dal procuratore Fausto Cardella Su tutti il colonnello ha voluto ricordare L'esplosione di Tagliacozzo Ho visto i miei uomini Ha detto tirar fuori i feriti sin da subito E sacrificarsi anche a costo della vita Ma in fondo l'arma dei carabinieri È proprio questa Ma sono risultati senz'altro diffusi In tutta quella che è l'articolazione provinciale Quindi siamo applicati senz'altro Nelle importanti attività collegate Al controllo di legalità A seguito e a margine della ricostruzione Quindi secondo quelle che erano esigenze Di approfondimento Che la procura della Repubblica dell'Aquila Ha richiesto di affrontare Ma oltre a questo c'è tutta una provincia Che si è vista In qualche modo Chiamata a contrastare Tanta parte di Di reati diversi Sono i reati predatori Sono i reati contro il patrimonio Sono aspetti che caratterizzano Anche la sicurezza percepita E generale di una provincia Molto molto ampia Donna Rumma ha ringraziato anche la stampa Per la collaborazione e soprattutto per la compostezza In questa stagione difficile Ha detto Fatta l'inchiesta In un territorio ancora sofferente Il colonnello ha poi ringraziato I 623 carabinieri appartenenti alle 5 compagnie Che compongono il comando provinciale Definendoli straordinari Ed è proprio questo il grande merito Secondo il procuratore Cardella Aver valorizzato gli uomini È nella responsabilità Di chi si è chiamato a guidare A comandare un'unità provinciale Valorizzare i propri uomini È il primo degli obblighi Quindi io ritengo di aver fatto il mio dovere E sono felice che si possa essere colto Questo aspetto in cui Ciascuno è chiamato a portare il proprio contributo E le intelligenze non guardano al grado E quello che deve essere patrimonio condiviso È l'orgoglio a una dipendenza funzionale Da quell'autorità giudiziaria A cui è conferita naturalmente L'alta responsabilità e il controllo di legalità Ora parliamo delle prossime amministrative Nel comune di Roseto degli Abruzzi Dove si tornerà nei prossimi mesi Al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale Il sindaco uscente Egno Pavone Smentisce le voci di un accordo Tra Tommaso Ginobile e Paolo Gatti Per spaccare la coalizione di centrodestra Ribadisce di essere l'unico candidato della coalizione Ho fatto degli incontri con i gruppi Che sostengono la nostra coalizione Abbiamo fatto un tavolo politico nel mese di agosto Successivamente ho incontrato delle delegazioni Ogni delegazione ha espresso con i propri rappresentanti Quelli incontrati e fino ad oggi La volontà di rimanere in questa coalizione Di sostenere il sindaco uscente E quindi tutto questo sono chiacchiere In questi momenti nella città di Roseto C'è un fermento politico di incontri, riunioni, cene, bar Ecco fanno la fortuna dei bar e dei ristoranti Almeno le elezioni in questo momento Ennio Pavone sarà dunque il candidato unico del centrodestra a Roseto Questo è quello che è uscito dalle indicazioni Che abbiamo avuto con i rappresentanti Dei movimenti e dei gruppi Che hanno sostenuto la mia amministrazione E quindi io ho dichiarato la mia disponibilità Da sempre, da qualche mese ufficializzata E quindi diciamo che Ennio Pavone sarà il candidato sindaco E sentiamo e abbiamo la possibilità Secondo me addirittura di tentare il colpaccio al primo turno A proposito di incontri Lei domenica scorsa ha incontrato a Montesilvano Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini Sì, Salvini è stato già qui a Roseto nel mese di settembre Successivamente abbiamo avuto rapporti con i loro riferimenti regionali C'è un percorso iniziato E ho incontrato di nuovo Salvini a questa manifestazione Qui a Montesilvano La Noico Salvini è un movimento che organicamente sta nel centrodestra Quindi ci sono tutti i presupposti Affinché la lista Noico Salvini possa essere Adesso saranno i loro dirigenti, si stanno ancora strutturando in maniera organica Ma ci sono tutti i presupposti politici affinché la lista Noico Salvini Sia un alleato forte e convinto della nostra coalizione Il piano della tutela delle acque in Abruzzo slitta al 2027 Per decisione del Consiglio regionale che ha richiesto il rinvio Gli ambientalisti lanciano l'allarme sullo stato delle falde acquifere Il Consiglio regionale chiede il rinvio del piano di tutela delle acque Che slitta ora al 2027 Un piano che prevedeva il risanamento dei fiumi abruzzesi Dello spinoso problema delle falde acquifere E che comprende anche ricadute economiche sui comparti del turismo e dell'agricoltura Secondo il forum dei movimenti dell'acqua Crediamo che non sia un piano di tutela delle acque Ma forse è più un piano per tutelare qualche funzionario Dai problemi che stanno venendo fuori Nel senso che è inaccettabile rinviare al 2027 Chiedere una deroga appunto al 2027 per il risanamento dei fiumi Noi dobbiamo salvare i nostri fiumi oggi non fra 12 anni Poi anche i corpi idrici sotterranei C'è le falde, l'acqua che non vediamo ma che c'è Ed è molto importante anche per il nostro futuro C'è una condizione molto molto complicata, difficile di inquinamento Una situazione che preoccupa quella dello stato di salute dei fiumi Argomento giunto alle cronache più e più volte che oggi A Pescara vede intervenire il sindaco Marco Alessandrini Per ordinare il blocco della Pescale Vongole per un caso di Salmonella Questo diventa un problema sanitario prima di tutto Ma anche un problema per il turismo Perché si parla tanto di incentivare il turismo Che probabilmente è una delle nostre risorse principali in questo momento E invece con questo piano di tutela delle acque Non tuteliamo quello che è il nostro bene principale Si rinnova anche oggi l'appuntamento con lo Startup Day Della Università degli Studi di Teramo Iniziativa finalizzata a promuovere l'imprenditorialità giovanile e l'innovazione Tra Università e innovazione si rinnova anche oggi Presso l'Università di Teramo l'appuntamento con lo Startup Day Sicuramente si rinnova un appuntamento che vorremmo rendere istituzionale E con la proposta di un festival delle Startup Oggi iniziamo presentando delle aziende che sono riuscite a vincere la sfida Un dato interessantissimo è stato presentato dal Censis Lo scorso 9 ottobre in conclusione dell'attività dell'Expo di Milano Nel secondo trimestre 2015 sono state create 300 nuove aziende al giorno Da imprenditori con età inferiore ai 35 anni Sono in qualche modo riconducibili e assimilabili a delle Startup Non solo per l'attività che svolgono Ma anche per come sono state concepite queste aziende Noi vogliamo far sì che i nostri giovani possano partecipare a questo evento di innovazione A questo evento di rinascita, a questo evento di sviluppo economico Uno sviluppo durevole nella misura in cui sarà possibile realizzare e creare Startup Creare nuove aziende e rilanciare il nostro territorio Credo che questo dia senso e significato alla presenza di una università sul territorio Il comune di Rossetto degli Abruzzi ha organizzato il primo corso base di prima difesa Riservato alle donne, previste una parte teorica e una pratica Purtroppo ogni giorno nella cronica nazionale riporta questi femminicidi O episodi di violenza contro le donne Io facendo un corso di aggiornamento di autodifesa Mi è venuto in mente di organizzare questo corso di base Di prima difesa riservato alle donne Proprio perché le donne debbano essere pronte Contro queste purtroppo spiacevoli situazioni che si possono verificare Allora noi nella parte pratica che è la parte in cui c'è lo scontro fisico Cercheremo di trasmettere quelle nozioni che vengono estrapolate come dicevo prima Da alcune tecniche di arti marziali e vengono poi adattate alla fisicità di una donna E naturalmente utilizzeremo anche alcuni attrezzi che saranno il capsicum C'è lo spray al peperoncino in modo tale che coadiuverà alla forza fisica E quindi di conseguenza cercherà di allontanare il più possibile il pericolo Dottoressa Simona Prosperi si occuperà della parte mentale e psicologica di questo corso Praticamente aiuterò le donne ad acquisire la consapevolezza Di come possono utilizzare le risorse mentali ed emotive Per poi affrontare quella che è la situazione di violenza Perché purtroppo quando poi si è sulla strada e non ci si aspetta l'aggressione Si rischia poi di essere bloccati dalla paura Quindi si acquisiranno degli strumenti proprio per gestire meglio la paura E per poter difendersi al meglio Sia durante l'aggressione che prima per cercare di ridurre proprio il rischio Il Festival dei Due Parchi inaugura domenica 22 novembre In collaborazione con Comune di Civitella ASD Polisportiva Antropo Sport e Antropo Service Il nuovo sentiero creativo dell'Eco Trail di Montesanto Memorial Melania Rea Il Festival dei Due Parchi inaugura il nuovo sentiero Eco Trail di Montesanto Memorial Melania Rea Siamo giunti a questa terz'ultima tappa per il 2015 Si tratta di una gara di corse in natura che si chiama Eco Trail di Montesanto E che poi abbiamo voluto dedicare a Melania Rea E quindi sarà un memorial Melania Rea Poi avremo altri due appuntamenti con il Festival Che saranno la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di poesia Il 29 novembre ad Ascoli Piceno Per chiudere di nuovo nei territori di Civitella del Tronto E quindi alle porte del Parco del Gran Sasse e Monti della Laga Il 20 dicembre con la Maratonina Rosa dedicata alle donne Percorsa su strada di 10 chilometri e mezzo Appuntamento domenica 22 novembre a Villa Lempa Durante la manifestazione l'amministrazione porrà una targa commemorativa nel Bosco delle Casermette Per tracciare questi trail e questi percorsi ci siamo imbattuti in questa vegetazione diversa Dalle solite conifere che sono in un parco E ci siamo resi conto che in quel luogo era avvenuto l'evento della Melania Rea La cosa ci ha toccato sensibilmente E quindi in quel punto l'emozione più grossa che abbiamo avuto è quella di riportare la vita in quel luogo Quindi con il presidente del festival abbiamo scritto alla famiglia Rea Che contenti hanno dato il benestare a questa manifestazione Per chi vuole partecipare? Partenza dalla piazza del mercato di Villa Lempa Ritrovo dalle ore 7.30, partenza alle 9.30 Il percorso che partirà appunto da Villa Lempa Arriverà fino alle Casermette Proseguirà poi dalle Casermette fino alla frazione di Villa Passo Girerà intorno all'abbazia di Montesanto In particolare al Colle E poi ci sarà l'arrivo lì in piazza a Villa Lempa 13 appuntamenti che spaziano dalla letteratura alla storia alla filosofia e all'arte L'Istituto Nazionale di Studi Crociani presenta il cartellone di Attualità Culturale in Dialogo L'attualità culturale in Dialogo si fa a quella che è una cronostoria Per vedere quali sono stati gli aspetti, i nuovi aspetti, quelli che c'erano e quelli che hanno conservato In questo caso si affrontano sotto diversi punti di vista E sono degli appuntamenti che iniziano il 30 novembre Sì, l'Istituto Nazionale di Studi Crociani Riprendendo le realità appunto di Benetto Croce Vuole favorire un'operazione, se vogliamo, di divulgazione Che speriamo possa essere alta E che possa essere anche gradevole per le persone, per gli appassionati Cioè affrontare insieme in più che conferenze e dialoghi Le novità che la saggistica nel campo della letteratura, della storia, della filosofia e dell'arte Ha proposto negli ultimi anni Siamo in un mondo in continua trasformazione Abbiamo sempre bisogno di lenti nuove Per conoscere e svolgere insomma Quell'impegno costante che Benetto Croce ci insegnava a svolgere quotidianamente È un invito che è rivolto non solo agli addetti del settore ma anche a chi? Tutti quelli che hanno un'idea gratuita del sapere E che si incuriosiscono a quello che si scrive Siamo in un paese in cui tanto si pubblica ma un poco si legge Vogliamo dare una mano Una mano, cioè intanto con dei colleghi, degli amici Ne discutiamo, ne parliamo E abbiamo anche la speranza che magari qualcuno incuriosito dalle nostre parole Possa fare il passo successivo di leggersi questi libri E ora un servizio che in qualche modo ci introduce alla pagina sportiva Sono scaduti termini di 120 giorni Entro i quali la soprintendenza dei beni culturali Avrebbe dovuto comunicare le proprie osservazioni In merito al progetto di riqualificazione Dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara Il comune è intenzionato ad andare avanti con il progetto Coinvolgendo la città Per quanto riguarda lo stadio Adriatico Nei giorni scorsi era arrivata anche in questo caso Una dichiarazione della soprintendenza non proprio positiva Per quanto concerne i lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico A che punto siamo? Diciamo che noi il 17 di luglio abbiamo ricevuto una nota della soprintendenza Dove ci dicevano che avevano iniziato un provvedimento Per mettere sotto tutela ambientale tutto lo stadio Adriatico Però i tempi erano 120 giorni Noi a oggi che è il 17 di novembre Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ulteriore da parte della soprintendenza Quindi riteniamo al momento che questo provvedimento non abbia nessun tipo di valore E quindi noi così come stiamo facendo in questi ultimi tempi Proseguiamo nel percorso di studio di fattibilità Per la risistemazione, per la ristrutturazione dello stadio Adriatico Noi entro fine anno avremo uno studio di fattibilità Sottoporremo questo studio di fattibilità alla città intera Nel senso che mia intenzione è quella di convocare un consiglio comunale straordinario Ascolteremo gli ordini professionali Ascolteremo i portatori di interessi Ascolteremo i commercianti Ascolteremo tutti Commercianti critici tra l'altro Commercianti sì, leggo, critici Però voglio dire, noi siamo disponibili a fare tutto Contro i murini a vento non si può andare Allora deve essere un progetto condiviso da tutta la città E ora appunto la pagina dello sport Parlando subito di Serie B e di Pescara Quest'oggi seduta mattutina per i biancazzurri In vista dell'anticipo di venerdì all'Atletico Cornacchia contro l'Avellino Ebbene, le buone notizie arrivano da Bunozza e da Fiamozzi Che hanno lavorato regolarmente in gruppo Lavoro a parte per l'attaccante Gianluca Caprari Vittima di un affaticamento muscolare Ancora fermo Luca Forte Le brutte notizie invece arrivano sul fronte Ugo Campagnaro che era stato recuperato in extremis Data anche l'emergenza in difesa per la partita di Como Ebbene, il difensore si è sottoposto a degli esami Che hanno rilevato una lieve lesione muscolare al polpaccio destro Già precedentemente colpito da un lieve infortunio E quindi Campagnaro sarà fermo almeno 10 giorni Domani seduta pomeridiana al Poggio Ma l'emergenza difensiva in qualche modo è destinata a rientrare Con Bunozza che appunto si allena regolarmente con il gruppo E con Fornansier che dopo aver scontato la squalifica Sarà a disposizione del tecnico Oddo per la gara contro l'Avellino Oggi ha parlato il centrocampista libico Ahmad Ben Ali, autore di un assist domenica a Como Per il primo gol di Lapadula Ascoltiamolo Ben Ali da qualche partita è diventato un giocatore decisivo per il Pescara Cosa è cambiato rispetto all'inizio per te? All'inizio non lo so Magari non ho fatto il ritiro con questa squadra Quindi ci volevo un po' di tempo ad adattare Poi il Mist mi ha aiutato tanto La squadra è anche un gruppo fantastico Quindi qui mi trovo molto bene E sento un giocatore importante Però ci sono altri giocatori che sono importantissimi in questa squadra Questa partita con l'Avellino è importante dopo la vittoria di Como Nell'ultima partita a Casalinga c'era stata questa sconfitta con la Ternana Ora bisognerebbe tornare a vincere all'Adriatico Sì, capita durante l'anno che perdi una partita, perdi due Però sicuramente abbiamo dato un segnale importante Perché abbiamo fatto una partita un po' difficile Poi sofferto tanto contro il Como Però alla fine abbiamo portato il caso tra i punti Adesso cerchiamo di fare lo stesso coso che l'Avellino Oggi la classifica dice playoff Ma un pensierino almeno al secondo posto sotto sotto Lo state facendo in prospettiva futuro ovviamente Siamo capaci, siamo una squadra forte Come giochiamo noi Penso che non gioco come nessun altro Poi dobbiamo vincere contro queste squadre Abbiamo perso contro il Ternana Però siamo tornati contro il Como Dobbiamo vincere queste partite importanti Contro squadre come Cesena Spezia che sono contro i playoff Quindi sicuramente vedremo in queste partite dove possiamo andare Bellino squadra ostica notoriamente difficile da affrontare Avete già parlato con il tecnico della formazione campana Sì abbiamo la nostra idea Poi sarà sicuramente una partita importante È una partita tosta È una squadra che ti attaccano Non ti fanno giocare tanto Però confrontiamo la partita come affrontiamo gli altri E ora parliamo di Virtus Lanciano Che ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di sabato In questo caso a Chiavari Sarà il derby tra le due Virtus Virtus Centella contro Virtus Lanciano Allenamento al pomeriggio Oggi al Memmo Brutte notizie per quanto riguarda l'attaccante Nicola Ferrari E il difensore Federico Amenta Che hanno saltato per problemi muscolari la gara contro il Crotone Ebbene per entrambi C'è la distrazione muscolare di primo grado Al flessore della gamba destra Quindi stesso infortunio e stesso muscolo Interessato per il centro avanti Il difensore centrale della Virtus Lanciano Che dunque quasi certamente non saranno della partita Sabato prossimo a Chiavari Domani nuova seduta di allenamento al pomeriggio Per i rossoneri di Roberto D'Aversa Il tecnico che andiamo ad ascoltare Proprio sulla partita pareggiata contro il Crotone Sì, per come si era messa sicuramente È chiaro che se uno va a fare un'analisi della partita Credo che nel primo tempo qualcosa in più avremmo meritato Però l'episodio ci ha condannato E poi siamo stati bravi a recuperare una partita Dove comunque anche il Crotone ha avuto occasioni per chiuderla Però penso che la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi Abbia preparato questi ragazzi che sono incognabili Per quanto riguarda l'atteggiamento Perché penso che solo l'atteggiamento messo in campo Gli ha permesso di recuperare una partita contro una squadra ben organizzata Bisogna guardare l'aspetto positivo Sicuramente da migliorare Perché non è possibile magari creare tante situazioni E non crederizzarli Anche se devo dire che alcune sono state un po' fortuite Tipo la deviazione che comunque è andata a sbattere sulla traversa A differenza magari che a noi le deviazioni vanno in porta Però altre circostanze Mi viene in mente Eric, Lanini Dove era solo e poteva stoppare la palla E altre situazioni E bisogna migliorarle Bisogna avere più voglia e determinazione In entrambi le fasi Sia quando magari c'è da concludere Sia quando magari c'è da proteggere un risultato E ora parliamo di Lega Pro E parliamo in particolare di Teramo Che prepara la delicata trasferta di Rimini Di sabato prossimo A ore 15 Partita che assume ulteriori connotati Dopo la richiesta avanzata ieri dal presidente Campitelli Che vuole tre punti Sia per la gara di Rimini Sia per la successiva gara casalinga contro il Siena Sei punti nelle prossime due gare E poi vediamo Queste le parole del patron bianco-rosso Oggi le decisioni del giudice sportivo Che ha fermato per un turno Il centrocampista riminese De Martino Ed il difensore terramano Altobello Dunque entrambi salteranno la gara di sabato prossimo Gara che sarà diretta da Candeo Della sezione di Este Mentre Maceratese e L'Aquila Sarà diretta da Viotti Della sezione di Tivoli Oggi ha parlato tra gli altri Il difensore del terramo Simone Brugaletta Che è tornato anche Sull'incontro di ieri Che il presidente Campitelli Ha tenuto con la squadra Un faccia a faccia Prima dell'allenamento Il presidente ci ha dato una gran carica Perché il presidente è una persona Che ha una carica interiore immensa È venuto dentro lo spogliatoio Ci ha detto Ci ha detto quello che pensa di noi E quello che vorrebbe da noi Ed è giusto Perché si aspetta tanto da noi Perché ci ha dato tanta fiducia E quindi noi adesso dovremmo ripagare la sua fiducia Dobbiamo andare a Rimini Dobbiamo andare a fare il risultato Per forza Perché una vittoria ci darebbe anche morale Siamo una grande squadra E non è questa la posizione che meritiamo Quindi andiamo a Rimini Andiamo a fare una grande partita E cerchiamo di fare il risultato Chiaramente abbiamo fatto degli errori E ne siamo consapevoli Adesso stiamo lavorando duramente In allenamento Per cercare di non ripetere questi errori Sia di riparto che singolarmente Adesso con il mister stiamo lavorando Stiamo lavorando veramente Stiamo lavorando tanto E speriamo in futuro di non ripeterli più Quando parlo di lavorare Io intendo tutto Sia tatticamente Che anche fuori dal campo A livello mentale Noi abbiamo una grande squadra Noi dobbiamo pensare partita dopo partita Cercare di fare il risultato Partita dopo partita E poi tireremo le somme Comunque siamo una squadra Da alta classifica Ne sono sicuro Che arriveremo Dove meritiamo E questo è anche il momento Per ricordarvi L'appuntamento doppio Con la Lega Pro Di questa sera A partire dalle ore 21 Con Proteramo Per focalizzare Insomma Gli argomenti Che concernano La squadra bianco-rossa Con la conduzione Di Jacopo Forcella E poi A seguire Pro L'Aquila Con la conduzione Di Giulio Nardi Per tonare Sulla importante vittoria Della squadra Rosso-Bru Proprio nel derby Del Gran Sasso Di sabato scorso Il TG6 Seconda edizione Finisce qui Grazie per l'attenzione Buona serata Grazie per la visione Grazie per la visione